Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 per uno sciopero a Roma e nel Lazio, saranno possibili stop sulle linee di bus, tram metropolitane, sulla Termini Centocelle e sulle ferrovie Metromare e Roma Nord. La protesta di venerdì mattina interessa ATAC, Roma TPL, Troiani e Cotral.